Se volete cercare un po' di refrigerio da lucifero, vi consigliamo di non dare un'occhiata al profilo Instagram di Belen Rodriguez. La showgirl argentina di ritorno da Los Angeles per la campagna di Guess se la spassa in Spagna, tra ville bellissime, piscine da sogno e scatti in costume a dir poco bollenti, che potrebbero darvi alla testa peggio di un'insolazione. Nonostante immaginiamo sia difficile restare impassibili di fronte al fascino esotico di Belen, e i commenti entusiastici alla galleria parlano chiaro, c'è chi riesce nell'impresa e usa la massima attenzione per giudicare le foto con un certo distacco, rivelando così i trucchetti di post-produzione dietro ad alcune immagini che in un primo momento sembrano perfette. L'ultimo scatto incriminato vede la sexy fidanzata di Andrea Iannone di schiena in topless con un micro tanga immersa in una piscina. La location è da urlo e le forme della Rodriguez mandano su di giri, eppure ci sono diversi dettagli che proprio non sono stati apprezzati da alcuni follower. Qualcuno scrive Sei così bella che non capisco perché tu debba modificare delle foto e aggiungerei anche male, visto che le gambe sono praticamente sparite e il sedere è quadrato. C'è anche chi fa notare che i piedi sembrano piatti. A difendere la Rodriguez dalle male lingue sulla foto hot ritoccata postata su Instagram, però un esercito di fan che al grido di è tutta invidia chiude alla svelta la faccenda che ha infiammato i social.